Amici di Canottaggio Video in diretta da Gavirate, il post-gara, siamo sul pontile dello sbarco con i neocampioni d'Italia del circolo nautico Posillipo, la specialità è quella del 2 senza, una gara combattuta fino all'ultimo centimetro, raccontacela. Sì, è stata una gara combattutissima, abbiamo vinto praticamente l'ultimo secondo, eravamo preparati per una gara del genere quindi l'abbiamo affrontata con molta determinazione, siamo adesso in una gara immensa di aver vinto questa gara, molto importante. Questa gara che anticipa di fatto 15 giorni il campionato italiano assoluto che è sicuramente un importante appuntamento, se non il più importante appuntamento a livello stagionale. Cosa farete a questo appuntamento Remiero? Noi siamo primo anno under 23, fare la gara assoluta per noi è uno stimolo, ci impegneremo al massimo, è uno stimolo molto grande per i giovani come noi. Ripresenteremo di nuovo il 2 senza per vedere magari di raccimolare una medaglia, sarebbe la nostra medaglia d'oro. Beh, una medaglia che se arrivasse, proprio come dici tu, sarebbe una grande soddisfazione e durante queste due settimane come funzionerà la vostra preparazione? Sicuramente è allenamento come abbiamo preparato questo campionato, con molta più determinazione perché affronteremo gente molto più forte e più grande di noi, quindi sappiamo che dobbiamo affrontare una gara ancora molto più dura di questa e sicuramente faremo bene anche lì. In bocca al lupo Crevi